Trampoli. Per guadagnarmi da vivere camminavo sui trampoli. Sul petto e sulle spalle portavo i cartelli di propaganda dei ristoranti. Un giorno, mentre mi esibivo sulla spiaggia, caddi dall'alto dei trampoli e debbi la commozione cerebrale. Fu la mia illuminazione. In ospedale, mentre riacquistavo conoscenza, mi accorsi di sapere tutto ciò che mi stava intorno senza essere ancora in grado di vederlo e mi resi conto che la caduta mi aveva trasferito in una dimensione superiore. Come chi parte dal suo paese quando torna dopo tanto tempo non si riconosce più nella mucca, negli olivi, nell'asino e nei parenti di casa sua, così io non mi riconoscevo più nell'uomo dei trampoli, perché avevo un senso in più, quello del futuro. Commento. Alcuni si aprono ai piani superiori di esistenza dopo eventi traumatici, come grandi dolori, stati di coma, gravi depressioni e più raramente grandi emozioni. Durante questi eventi accade che la coscienza irraggi vibrazioni violente attraverso il corpo astrale e mentale e apra l'individuo a percezioni superiori. È iniziato a facoltà che in lui erano latenti. Grazie a tutti.